Nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia si è celebrata questo pomeriggio una messa in memoria di Luigi De Filippo, attore e regista napoletano figlio di Peppino, scomparso lo scorso 31 marzo. Sposato con Laura Tibaldi viveva a Roma da tempo. Lui amava questa città, è nato e cresciuto qua, ha lavorato sempre e volentieri qua, qualche volta non è venuto, poi è ritornato, ma le sue radici sono qui, la sua essenza è qui, la sua nepodetanità è qui, il suo modo di fare teatro, il suo DNA. È un DNA raro che in pochi hanno e loro erano tra questi. Luigi era legato alla sua città, non l'ha mai disconosciuta, non ha mai detto, ne andate ve ne ho tornate. Per motivi di lavoro sono stati a Roma, ma in realtà il loro successo e la loro essenza era solo ed esclusivamente Napoli. Napoli nel mondo e oggi, oggi forse Napoli, è l'unico posto dove c'è fermento culturale, contrariamente al resto d'Italia. Alla cerimonia religiosa hanno preso parte diversi attori ed artisti napoletani, fra cui Angela Luce, Anna Maria Ackerman e Nello Mascia. Un ricordo straordinario, immenso, di una famiglia unica come la famiglia De Filippo. Ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscerlo personalmente durante il mio mandato di sindaco, ovviamente l'ho sempre apprezzato come grandissimo uomo di cultura con una grande sensibilità, un grande amore per Napoli. Nelle volte che ci incontravamo parlava sempre della nostra città e ci sarà nei prossimi mesi un ricordo davvero straordinario di tutta la famiglia De Filippo nella nostra città. Quindi oggi salutiamo anche a Napoli, dopo averlo fatto a Roma, un grandissimo uomo del teatro napoletano come Luigi De Filippo.